E questo che vedete alle mie spalle grazie alle immagini del nostro operatore Donatello Ricci è il tratto, l'intersezione o meglio tra via Garibaldi e il corso stretto dove si sta anche in questo momento ripavimentando. La notizia è che questo tratto, questa intersezione verrà chiusa per un mese provocando ulteriori disagi ma è assolutamente necessario farlo per continuare anche in quest'area che vedete i lavori di ripavimentazione del corso stretto che sono in corso, che stanno andando avanti abbastanza speditamente, ovviamente sarà disposta a una viabilità diversa perché qui dove vedete appunto le immagini non si potrà più passare con le auto e saranno garantiti invece gli accessi pedonali. Nell'Aquila dei Cantieri si cambia ancora, la viabilità cittadina subirà ancora cambiamenti perché per i lavori di pavimentazione attualmente in corso l'intersezione tra la centralissima via Garibaldi e Corso Vittore Emanuele sarà chiusa per circa un mese ma la ditta assicura che cercherà di fare presto, come ha sempre fatto finora, e di riaprire anche prima. Questo avverrà dal 18 maggio al 16 giugno, una decisione presa dal Comune e dalla Polizia Municipale per consentire la prosecuzione dei lavori di ripavimentazione del corso stretto che ora andranno a toccare le due intersezioni, quella con via Castello e quella appunto con via Garibaldi. Per questo la Polizia Municipale ha emesso l'ordinanza. Essendo vietato il transito in quella zona necessariamente dovrà esserci una viabilità alternativa per chi deve percorrere la via e per accedere. A via Garibaldi lo si potrà fare soltanto da via della Genca, via Santamiche e via Antinori. La ditta che effettua i lavori in questi giorni che precedono la chiusura monterà un'opportuna segnaletica per aiutare gli automobilisti. Ovviamente saranno garantiti gli accessi privati per i residenti, come pure l'ingresso alle attività commerciali con un percorso pedonale per chi passa a piedi. Si tratta chiaramente di un ulteriore disagio per chi vive il centro storico e per i commercianti, che già stanno affrontando tante problematiche anche a livello di incassi proprio per i lavori in corso, ma si va avanti speditamente nell'ottica di terminare quanto prima questi cantieri e restituire una città ancora più bella. La ditta peraltro sta rispettando minuziosamente i tempi del cronoprogramma e proprio lunedì prossimo la ditta Rosa Edilizia nei suoi uffici ha convocato un incontro con i commercianti per spiegare le prossime fasi di intervento previste proprio dal 18 maggio. Nei giorni scorsi il Comune ha affidato peraltro a una ditta di Frosinone anche i lavori di Piazza del Teatro e Via Verdi, che saranno interessate da un'opera di restyling, ma iniziare ora sarebbe impensabile proprio per la concomitanza con gli altri cantieri, se ne riparlerà a settembre.